Ammi il Signore Dio del cuore, vi apriremo tutti le parole di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia il tuo cuore, alleluia, alleluia. In quel tempo, il Signore dicevo, se uno di voi ha un tipo realizzato la parola di Dio, all'incompensa di Tartano, perché il mondo d'Agnone è un mondo d'Agnone, è un mondo d'Agnone, è un mondo d'Agnone. Spesa dell'Inferno che risponde, non è importunale, la porta è già giusta, e i miei, 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 i miei. Il Signore Dio dice, non posso usare la parola di Dio. Vi dico che, anche se non sanzerà la parola di Dio e il suo amico, almeno nella sua equivalenza, sanzerà la parola di Dio. La parola di Dio dice, non ci sia il mio amico, ma anche se non ci sia il mio amico E' bene, io mi chiedo, 믿amvi, sanatà «donate il provvedere del passaggio di sabbatta», perché il mio amico viene e diceva che il mio amico sia la propria è la nostra sparta. Grazie. Grazie.